ciao allora come primo video del 2013 faccio un tutorial per la realizzazione di questi orecchini che ho chiamato orecchini stella alpina li ho realizzati in questi colori perché li voglio abbinare con un bracciale svaroschi che mi hanno regalato i miei genitori a natale quindi è nata l'idea ed è uscito fuori questi orecchini insomma a forma di stella alpina almeno me la ricordano spero che il tutorial vi piaccia e niente alla prossima ciao allora l'occorrente per la realizzazione dell'orecchino stella alpina è il seguente allora un rivoli da 14 mm filo miuki sono insomma può essere il fireline insomma quello che generalmente usate io appunto uso il sono le miuki bagel da 3 mm io sto usando il numero 12 che vi ho acquistato vi ho mostrato nella review di sabrina cristalli delica delica 11 0 io utilizzo questo colore che purtroppo non ho il codice perché era stato un omaggio un regalo che mi avevano fatto qua in un negozio e voi non vedete ma è un viola un po' più chiaro di quello che si vede e due tipi di rocaille questo poi ovviamente i colori sono a vostra scelta io sto usando rocaille da 15 0 questo colore per chiudere l'incastonatura del cabochon che è eccolo qua ve lo vedete il colore è silver lined tanzanite qualcosa del genere e poi utilizzo per fare le punti il metallic iris purple sempre da 15 mm ho detto tutto iniziamo allora mi sono dimenticata di dirvi che occorrono anche 9 svaroschi da 4 mm io utilizzerò gli svaroschi che adesso vi mostro che sono i primi in alto l'amethyst AB non rispecchia molto il colore che è realmente però vabbè vi ho fatto vedere perlomeno quello che utilizzo io quindi detto questo partiamo allora per prima cosa voi dovete prendere il vostro svaroschi il vostro rivoli svaroschi da 14 mm e incastonarlo con le delica e le rocaille per chi non lo sapesse occorrono almeno io utilizzo 36 delica di base per iniziare e incastonare appunto il rivoli non vi mostro come si fa per due motivi uno perché il tubo è pieno di questi tutorial di molte ragazze quindi per chi non lo sapesse fare fate una ricerca e trovate appunto come realizzarlo come incastonarlo scusate e secondo non lo mostro per una questione anche di tempo quindi dopo è scontato che se non tutte voi la maggior parte sappiano già come fare allora io ho già qua pronto il mio rivoli e vedete che il filo l'ho fatto uscire nella delica in mezzo alle deliche di base ecco io spero di essere chiara dicendo così ma non trovo un altro modo migliore praticamente noi cosa dobbiamo fare dobbiamo fare tipo una coroncina questo Swarovski quindi prendere una delica 11-0 inserirla nel filo ovviamente questo dopo aver posizionato il filo in mezzo praticamente guardate le delica di base e mettete il filo lo fate uscire da una delica che sta in mezzo all'incastonatura prendete appunto quindi inserite nel filo una delica 11-0 e passate il filo nella delica accanto facendo questo adesso io non so se voi riuscite a vedere bene bene ecco vedete che si forma queste adesso il colore non aiuta neanche di questo viola qua fa riflesso si formano praticamente delle puntine l'inizio di questa famosa coroncina io la chiamo così poi dovete far altro inserire sempre che inserire sempre una delica 11-0 nel vostro filo e passarla accanto alla delica di base da cui state uscendo si formano così vedete questa coroncina che sarà esattamente al centro dell'incastonatura del nostro rivoli adesso ne faccio ancora qualcuna per farvi vedere poi vi mostro il risultato finale vedete cosa dire non è una una cosa difficile anche questo molti di voi sanno già cosa intendo ok allora vedete praticamente sto realizzando appunto questi inserimento di queste delica per tutto la circonferenza del nostro rivoli adesso vi mostro il risultato finale ok questo è il risultato finale adesso abbiamo il filo che esce dall'ultima delica della nostra coroncina dobbiamo inserire una bagol da 3 mm una rocaille da 15 mm e un'altra bagol io sto utilizzando le rocaille da 15 mm del secondo colore che vi avevo mostrato all'inizio un consiglio le bagol almeno le mie non sono proprio regolarissime quindi vi vi consiglio di abbinare tra loro quelle che sono lunghe più o meno uguale quindi quelle che sono un po' più simili detto questo dobbiamo inserire il nostro filo nella delica della coroncina accanto in questa maniera tirando bene e con le dita a aiutarci dobbiamo formare questi triangolini aspettate che ok questi triangolini su tutta l'intera circonferenza del nostro rivoli ci vediamo alla fine ecco il risultato finale adesso dobbiamo far uscire il nostro filo nella rocaille 15.0 del triangolino quindi portiamo su il lavoro e inserire una bagol a questo punto allora ok inserire una bagol e semplicemente passare il filo e tirare nella rocaille 15.0 accanto dobbiamo fare tutto il giro così una bagol e uno svaroschi da 4 mm del colore che avete scelto quindi inserire uno svaroschi e inserire sempre il filo nella puntina del triangolino che gli sta accanto ok e tirare sempre bene sempre così bagol svaroschi bagol svaroschi fino alla fine del giro ok questo è il risultato a questo punto dovete far passare il filo e far uscire il tutto da uno svaroschi solo dallo svaroschi e inserire questa sequenza scusate ma io l'ho già fatta per recuperare un po' allora una dov'è ok ok ce la posso fare allora una rocaille 15-0 una bagol una rocaille 15-0 una bagole una rocaille 15-0 dopo aver inserito questo dobbiamo far passare il nostro filo nello svaroschi accanto quindi solo nello svaroschi e non nelle rocaille 15-0 che gli sono vedete che sono nella base tiriamo sempre il tutto tiriamo bene e si forma un'altra di queste puntine dobbiamo fare la stessa cosa per l'intero giro una volta completato il tutto dobbiamo far uscire il nostro filo dalla bagol dell'ultima puntina dell'ultima sequenza quindi usciremo dallo svaroschi entriamo nella rocaille 15-0 e nella bagol e tiriamo il filo ok a questo punto noi dobbiamo soltanto inserire 4 rocaille 15-0 nel nostro filo quindi 1 2 3 e 4 ok portarle alla fine e ripassare quindi non entrare soltanto nella rocaille qui accanto ma ripassare soltanto nella bagol e nella rocaille in questo modo ok quindi saltiamo soltanto la rocaille che sta in mezzo alla puntina tiriamo bene e si forma la puntina della nostra stella alpina quindi abbiamo detto inserire quindi sono uscita dalla rocaille e esco ancora nello svaroschi quindi rocaille di base della puntina svaroschi io sto facendo i passaggi con voi in modo che vedete bene ok e ci riportiamo sopra sempre entrando nella rocaille e nella bagol che ok vedete che ci sono ok a questo punto rinseriamo le quattro rocaille 15.0 per formare il nostro disegnino chiamiamolo così i nostri cerchietti ecco che mi piace di più quindi rinseriamo i nostri e rientriamo oppla ok adesso ci sono e rientriamo nella bagol quindi salto e nello svaroschi sono riuscita tutto insieme tiriamo bene il nostro filo perché sistemiamo sempre il tutto con le dita e completiamo con questa sequenza tutto il giro ecco fatto una volta completato tutto il giro non dovete far altro che affrancare bene il filo per rafforzare tutto il lavoro intorno alle puntine che abbiamo appena creato insomma intorno a tutte le lavorazioni e tutti i passaggi precedenti fatto questo tagliate appunto il filo in eccesso e abbiamo finito la nostra stella alpina io non ho fatto altro che inserire in quello precedente in uno dei cerchietti che abbiamo appena creato la monachella che preferisco appunto per indossarli spero che il tutorial vi sia piaciuto e resto in attesa dei vostri commenti e delle vostre foto dei lavori un bacio ciao ciao